Prima di passare alla riflessione e spiegazione del messaggio che abbiamo appena letto, vi ricordo che in descrizione del video troverete il mio sito web waltersull.it e la possibilità di scaricare gratuitamente i libri che ho scritto per la gloria di Gesù e per la vostra salvezza. Quindi troverete i libri sul grande avvertimento, sull'inferno che esiste, la mia testimonianza e ovviamente questo libro molto importante che ho concluso in questi giorni, il manuale della sopravvivenza a fine dei tempi. Noi ovviamente clicchiamo acquista cartaceo su Amazon, io vi mostro che è anche presente su Amazon, non perché io ci debba guadagnare qualcosa, ma affinché ognuno di voi possa avere anche la versione cartacea nel momento in cui arriverà la grande tribolazione e non avremo più energia elettrica per un periodo e quindi sarà necessario che tutti noi abbiamo a disposizione dei libri cartacei come questo, dove ho raccolto attraverso le varie rivelazioni di Luzia di Maria e tanti altri mistici le piante medicinali per combattere le nuove malattie, le scorte di cibo, come fare le scorte di cibo e come trasformare la propria abitazione in un rifugio di preghiera, un cenacolo di preghiera, protetto dagli angeli e benedetto dalla Santissima Trinità. Siamo dato Gesù Cristo, benvenuti, fratelli e sorelle, in questo messaggio di nostro Signore Gesù Cristo, Luzia di Maria, del 28 ottobre 2023, ispirati nello Spirito Santo. Leggiamo il messaggio per comprenderne il significato e l'importanza. Cari figli, vi porto una grande notizia. Voi siete il mio grande tesoro e benedico ciascuno di voi, di coloro che con amore e rettitudine, con cuore contrito e umiliato accoglieranno questo appello, non come una alternativa, ma con il rispetto che mi merito come Dio. Io desidero che tutti si salvino e giungono alla conoscenza della verità. Desidero che siate rispettosi della mia parola, della Sacra Scrittura e che siate rispettosi della legge. Qui vediamo che ci sono i versetti Matteo 5, 17-20. Gli uomini devono vivere in una sola e unica realtà, che è la spiritualità, tuttavia hanno scelto di muoversi, in due realtà, una che è quella che dovrebbe esistere e l'altra che dovrebbe coesistere con la prima. La realtà è quella spirituale, quella terrena deve vivere in base a quella spirituale. In questo momento avete delegato la guida della vostra vita alla mondanità, che vi fa rimanere delle creature che non mi cercano, che non mi conoscono e che non mi amano. Avete relegato la spiritualità all'ultimo posto in quanto non mi conoscete. Avete permesso che il maligno oppressore delle anime penetrasse nella vita di ciascuno dei miei figli e in questo modo è riuscito a contaminarvi e a portarvi verso tutto ciò che mi causa dolore, verso ciò che vi porterà alla perdizione e se non vi convertirete a perdere la vita eterna. La preghiera è importante e necessaria sia per il vostro bene, Crescete spiritualmente, mantenete la fiducia nella mia casa, di mia madre e l'assistenza di San Michele Arcangelo. I demoni sono presenti su tutta la terra alla ricerca della loro prede per indurle ad agire contro tutto ciò che il mio amore comporta. È la migliore e la più grande protezione della persona in stato di grazia. Questo momento non è perché continuate a vivere nel peccato o nelle cose mondane, ma perché prendiate coscienza del pericolo spirituale di rimanere intrappolati nella follia dei bassi istinti. Figli, è il momento dell'agonia. È impossibile che continuiate a vivere come prima. È impossibile che commettiate gli stessi errori, gli stessi peccati. È importante che maturiate spiritualmente e di all'inizio a un consapevole risveglio. Voi desiderate doni e virtù, ma non li otterrete se continuerete a comportarvi ed agire allo stesso modo, se continuerete ad avere lo stesso cuore di pietra e se il pensiero divagherà su tutto quello che è in debito. I miei figli sono persone ragionevoli, che pensano alla loro salvezza eterna, al loro prossimo e alle loro necessità. I miei figli sono persone ricolme del mio amore, che emerge dalla loro bocca, dalle loro opere e dalle loro azioni. Se volete crescere, è impossibile vivere isolati, altrimenti crescerete a modo vostro, dicendovi questo è buono ed è così che devo comportarmi e agire. Ma questo è il risultato dell'ego umano che vi porta dove volete tramite la vostra volontà umana. Un'altra luna vi darà segnali nel firmamento. La persecuzione si intensificherà. Io vi ho già avvertiti di stare lontani dagli affodamenti. Il terrorismo non si è fermato, ha solo fatto una pausa. Figli, voi siete testardi, è necessario che abbiate i medicamenti che vi abbiamo dato per quello che verrà prima che sia tardi. Pregate figli miei, pregate. La morte di un personaggio mondiale in condizioni che solleveranno dubbi incrementerà questo tempo di guerra. Pregate per l'America centrale, il suo suole tremerà con forza. Il Messico tremerà, il Cile soffrirà a causa di un terremoto. La bovilia si muoverà con forza. La guerra si intensificherà, altri paesi interferiranno. Il cupo, scenario, si espanderà. Pregate con il cuore, con le vostre opere e con le vostre azioni. Pregate per la mia Chiesa. Miei amati figli, la mia parola è una. Non lasciatevi confondere da frettolossi modernismi. Non fatevi confondere. La mia legge è una e non cambia. Non dimenticatevi del mio amore per l'umanità, della mia presenza reale nell'Eucaristia, e consapevoli di quanto potete ottenere con la preghiera del Santo Rosario, dedicato a mia madre, nel rispetto della Divina Volontà, otterrete grandi miracoli per l'umanità e miracoli personali. Pregate col cuore la preghiera del Santo Rosario, che ha amato dalla mia casa. Vi invito nuovamente a pregare il Santo Rosario per tutta l'umanità. La mia benedizione è sempre con voi. Vi amo, il vostro Gesù. Ave Maria purissima, concepita senza peccato. Commento di Luz de Maria, fratelli, che grande gioia per tutti noi che il nostro amato Signore Gesù Cristo ci dia la sua speciale e infinita benedizione e ci chiami il suo grande tesoro, senza considerare la nostra ingratitudine in quanto noi non siamo degni di un appellativo così grande. Questo è l'amore misericordioso di Dio. Fratelli, ci viene detto che stiamo vivendo in due realtà, due realtà che abbiamo scelto tuttavia, sono così sbagliate. In quanto persone abituate a vivere nell'ego, abbiamo vissuto al contrario, volendo ridurre la spiritualità in base al nostro ego ed è per questo che non riusciamo a raggiungere la consapevolezza della grandezza di una persona spirituale. Oggi il nostro Signore Gesù Cristo ci invita a non porre più impedimenti all'essere più di Cristo che al mondano. Il nostro ego deve essere guidato dalla spiritualità e la nostra spiritualità deve investire l'ego umano. Questo è un messaggio molto forte di nostro Signore nel quale ci anticipa aspetti del nostro vivere quotidiano e questi sono i momenti in cui rafforzare la fede. Non per essere tiepidi, ricordiamo ciò che il Cielo ci ha rivelato. La Santissima Vergine Maria 2010 La Terra tremerà, vi esorto a non dimenticare, che laddove abiterà un'anima devota alla Santissima Trinità e che pregherà il Santo Trisaggio, verrà concesso che i fregelli siano diminuiti. La Santissima Vergine 2011 Questa umanità vive permanentemente stordita e ha chiuso le orecchie alla voce della coscienza, per questo il peccato sta crescendo momento dopo momento. Tutto ciò che state vedendo ora è solo l'inizio di quello che succederà in futuro. Verranno tempi in cui la coscienza degli uomini sarà talmente cancellata, il cuore sarà annientato, Dio sarà bandito e io talmente annullata. Saranno momenti di desolazione spirituale perché il male regnerà su tutta la Terra. Ma Gesù Cristo, nostro Signore 2014, non dimenticate che Roma perderà la fede e che diventerà la sede dell'Anticristo. Da dove vincerà battaglia e con grandi prodici. Ma il mio popolo non rimarrà solo, io manderò chi soccorrerà il mio popolo e questo inviato affronterà le forze del male, avrà la mia parola sulle labbra come fuoco che brucerà le insidie dell'Anticristo. La Santissima Vergine Maria 2015, la casa paterna, non distogna la protezione dei suoi figli e perciò offrirà all'umanità il suo inviato affinché, mediante la parola divina, incoraggi e riscatti le anime per mio figlio. Lui vi darà la sapienza proveniente dallo Spirito Santo affinché le anime non si perdano più e i giusti non si perdano, il resto santo si unisca. Amen. Siano dato Gesù Cristo nel cuore immacolato di Maria. Eccoci giunti alla fine della lettura di questo messaggio. Come sempre vi chiedo perdono per gli errori grammaticali che ogni tanto non so coniugare bene e non so leggere. Allora, in questo primo messaggio Gesù ci parla della sua regalità assente nella maggior parte dei suoi figli. Oggi camminando per strada ero sceso per andare a prendere il pane e come sempre nel mio cammino spirituale tra me e me nel mio cuore. Parlo con Gesù, parlo con la Madonna e vedendo i giovani alla fermata del Pullman che discutevano delle donne, del sesso, dei divertimenti, vedendo poi altri uomini e donne alla la pasticceria parlare del più o del meno e continuando a camminare poi sono andato al supermercato ognuno faceva la spesa come giusto che sia per se stesso e per la propria famiglia però in questo in questo caos regnava la divisione e quindi chiedevo al Signore che grande grazia che ci dona tutte queste apparizioni, tutti questi messaggi perché c'è una tale indifferenza tra di noi quando usciamo di casa eppure se ci pensiamo bene Dio ha creato le nostre anime i nostri spiriti e li ha incarnati in questi corpi al momento del nostro concepimento da parte dei nostri genitori e e quindi sulla terra camminiamo ci guardiamo e ci ignoriamo e ci ignoriamo perché io appartengo alla mia famiglia tu appartieni alla tua famiglia e quindi mentre camminiamo sono tante le persone che incontriamo e dovremmo fare questo pensiero io e te siamo fratelli e sorelle ma come? tu non vai di cognome come vado io ma che c'entra? io e te siamo fratelli e sorelle perché colui che ci ha dato l'io sono la coscienza di esistere l'intelligenza lo spirito l'anima è uno solo è il Padre Celeste il Padre Celeste ci ha dato l'anima a tutti noi e tutti noi quando camminiamo dovremmo essere coscienti del fatto che siamo tutti fratelli e sorelle e che al di là del cognome della religione del credo della lingua della cultura siamo tutti fratelli e sorelle e siamo tutti uguali a livello spirituale a livello fisico cambiano le fisionomie a livello spirituale siamo tutti uguali davanti a Dio ma anche a livello materiale davanti a Dio non ci sono ricchi e poveri belli o brutti c'è il suo popolo che è tutta l'umanità e quindi Gesù ci chiede a noi che facciamo parte del piccolo resto dei suoi chiamati che quindi noi non ci definiamo eletti noi siamo chiamati che camminano in questo cammino della conversione per diventare gli eletti per conquistare la vita eterna e quindi Gesù ci chiama a a guardare questo messaggio e la spiegazione di questo peccatore di questo grande peccatore che tanto ama il Signore come un appello per fermarci un momento e accogliere Dio in tutti i momenti della nostra giornata parlando con Lui in tutti i momenti della nostra giornata del più del meno dei peccati dei nostri errori di come possiamo migliorare però parlando con Dio che è Gesù che è lo Spirito Santo che è il Padre Celeste quindi parlando con la Santissima Trinità nel nostro cuore in tutti i luoghi in tutti i momenti della nostra giornata noi stiamo richiamando in noi lo Spirito Santo e in questo modo verremo illuminati per capire dove stiamo sbagliando e per migliorare il nostro modo di comportarci con le persone con noi stessi però è importante cominciare a parlare durante la giornata appena ci alziamo grazie Signore per questo meraviglioso giorno andiamo a dormire Signore benedici con i tuoi angeli con la Vergine Maria questo riposo chiedo perdono per il cane se si sente e quindi andando a dormire richiamiamo il cielo a venire con i suoi angeli a proteggerci facciamo un Ave Maria un gloria al Padre la preghiera a San Michele e poi durante la giornata parliamo nel nostro cuore così come io sto parlando con voi anche voi dovreste parlare con Gesù con la Madonna in tutti i vari momenti della giornata e questo ci porterà ad avere dei segni personali grandissimi ecco che Gesù ci parla dell'importanza della preghiera la preghiera non è soltanto la preghiera del Santo Rosario le coroncine la novene la preghiera è soprattutto la preghiera intima con la quale possiamo parlare in tutti i momenti della nostra giornata con la Santissima Trinità questo ci farà crescere spiritualmente e questo crescere spiritualmente farà sì che avremo a disposizione un'assistenza continua della Vergine Maria e di tutti gli arcangeli non dimentichiamo mai che Gesù ci parla anche dei demoni che sono su tutta la terra i demoni che al servizio del demonio e dall'anticristo promuovono l'ateismo il libertinismo il libertinaggio l'ateismo la massoneria il comunismo i demoni vogliono che tutti i giovani pensino soltanto ai divertimenti e alle cose del mondo in questo modo non impareranno mai a parlare con Dio e a sperimentare la sua presenza e quindi Gesù ci parla parla prima di tutto al suo popolo a coloro che sono immersi in un cammino di conversione affinché queste anime come il sottoscritto come tanti altri miei fratelli e sorelle capiscono che è impossibile continuare a commettere gli stessi errori gli stessi peccati perché il peccato nasce dall'ego e l'ego ci porta a fare dei pensieri nella nostra testa voglio quel computer voglio quella macchina voglio frequentare quei locali voglio andare da quella ragazza e dirle queste cose e questo è l'ego che parla al mio cuore però io ho rinunciato al computer alle donne ai divertimenti e quindi devo fare il passo successivo cioè cominciare a non fare più questi pensieri perché i pensieri sbagliati e i pensieri pieni di ego poi comportano che il nostro corpo sia salito dalle tentazioni ma non dalle tentazioni del demonio dalle tentazioni proprio che noi ci creiamo e quindi noi noi giovani che vogliamo seguire Dio che vogliamo amare Dio spesso lasciamo che i nostri pensieri divaghino su su una bella ragazza sulla macchina su un computer nuovo sui viaggi e quindi su tutte cose egoistiche che riempino di tentazione il nostro cuore e noi dobbiamo essere bravi a non fare certi pensieri affinché il nostro cuore sia sempre più leggero e così la nostra conversione sia sempre più forte questo è necessario se vogliamo piacere sempre di più al nostro Signore Gesù Cristo per non ricadere più negli stessi errori ma questo non toglie che quando ricadiamo negli errori dobbiamo andarci a confessare che siano passati 5 giorni 7 giorni 10 giorni dobbiamo andarci a confessare io mi sono confessato settimana scorsa questa settimana sono stato avvolto da tantissime tentazioni ieri sono corso a confessarmi non importa se sono passati 7 giorni o 10 giorni ciò che importa è la confessione e quindi ritornare da Gesù che rappresenta il sacerdote e dirgli Signore ho peccato questi sono i miei peccati ti chiedo perdono per averti offeso e attraverso la santa confessione dove i peccati che ho commesso mi umidiano vorrei non commetterli più perché ci sono dei vizi che sono impregnati nella mia vita vizi che mi porto dietro dalla dalla giovinezza dalla da quando ero ragazzo e vizi che devo abbattere in modo definitivo per essere sempre più del Signore ecco che Gesù ci dice anche che se vogliamo ricevere delle grazie personali importante dobbiamo fare questo salto di qualità con la preghiera intima dove questo tipo di discorso come io lo sto facendo a voi voi lo dovreste fare tutti i giorni a Gesù e alla Madonna e sono sicuro che anche voi riceverete degli aiuti importantissimi Gesù ci parla di non vivere isolati io vivo abbastanza isolato ma quello quello che io devo fare e quindi lo porto come testimonianza per esempio ieri sono uscito ieri sera sono andato al supermercato ho fatto degli acquisti e poi uscendo ho incontrato un signore che mi ha detto perché non vieni alla catechesi che facciamo al Duomo tutti i venerdì dalle 8 alle 9 di sera ti accompagno io a casa ti vengo a prendere ti accompagno io vieni con noi e ascolti con noi dai catechesi rifiutare tale offerta vuol dire rimanere isolati perché non basta solo che io porto sul canale youtube questi messaggi gli spiego poi c'è bisogno che anche io esca di casa non per frequentare luoghi affollati ma per frequentare luoghi dove si parla di Gesù ecco che Gesù conclude il messaggio con il nostro invito a pregare per tutte queste intenzioni quindi a pregare per tutte le nazioni della terra che subiranno vari terremoti a pregare affinché tutti noi avessimo questo desiderio di crescere anche nella scienza dello spirito la scienza dello spirito attenzione è un argomento che viene insegnato dai falsi profeti dove associano la scienza dello spirito a disegni a simboli alla reincarnazione alla new age la scienza dello spirito invece sono le apparizioni della madonna dove ci vengono rivelati tante cose sono le rivelazioni della divina volontà a Luisa Picarreta le rivelazioni a Suor Maria Latest le rivelazioni a Maria Valtorta a Santa Faustina Colovasca a Padre Pio questa è la scienza dello spirito sono le rivelazioni della fine dei tempi che il cielo ha rivelato ai vari mistici e profeti affinché tutti coloro che vogliono leggere questa scienza questi messaggi queste testimonianze queste rivelazioni queste profezie hanno tutti gli strumenti necessari per diventare santi in terra ed essere accolti trionfanti in paradiso Gesù ci ricorda di non fare di non dimenticarci dei medicamenti celesti io come sempre nell'intro del video vi lascio il libro che potrete acquistare con tutti i medicamenti celesti e tutte le informazioni necessarie sia per prepararli e sia per avere in casa nostra un altare di preghiera per pregare tutti i giorni la Santissima Trinità e infine Gesù ci ricorda due cose importanti la parola la parola di Dio è una quindi il sinodo non può cambiare la parola di Dio non può cambiare la legge e preghiamo per il Papa affinché non vengono attuati i modernismi come il celibato femminile che esiste nella mia parrocchia purtroppo esiste il celibato femminile senza che e questo celibato femminile esiste grazie a uno dei peccati più grandi contro lo Spirito Santo che è l'invenzione della massoneria ecclesiastica attraverso il ministero straordinario dell'Eucaristia dove le suore e i laici possono toccare il corpo di Cristo sostituirsi alla sacerdote e dare all'Eucaristia ai fedeli questo è proprio il peccato più grande che c'è nella Chiesa ed essendo che la parola è una soltanto i sacerdoti possono toccare la Santa Eucaristia e e Dio ha stabilito due frangenti per la Chiesa i sacerdoti e le suore con compiti diversi e non è possibile che le suore diventano sacerdoti e i sacerdoti diventano suore e questo accade anche quindi preghiamo e ringraziamo il Signore che ci invita a pregare il Santo Rosario che è una preghiera amata dalla casa e pregare il Santo Rosario per l'umanità con il cuore io come sempre vi lascio in descrizione tutti i riferimenti del mio blog di questo del sito ufficiale di Dozze di Maria dei libri da acquistare e vi porto nelle mie preghiere sia lodato Gesù Cristo nel cuore immacolato di Maria di Dozze di Maria